in questo breve video illustriamo il funzionamento del template da utilizzare agli esami di stato allora con il template va utilizzato all'apertura di un nuovo file quindi all'interno di archica dalla voce archivio nuovo nuovo file nella finestra che compare sceglieremo appunto il template o modello tra i vari modelli disponibili sceglieremo quello che è denominato template esami e lo apriamo allora in questo template è stato pensato esclusivamente per diciamo così visto il poco tempo a disposizione facilitare le operazioni finali di predisposizione delle tavole che andranno consegnate in formato pdf e quindi questo innanzitutto nel template troverete un un edificio di esempio composto esclusivamente da quattro mura e un tetto che al solo compito di essere un segnaposto nel senso che se il vostro progetto avrà più o meno questi ingombro diciamo che la avete tutto più o meno già impostato se l'ingombro sarà un pochino differente andrà un pochino andranno modificare le varie finestre la vediamo innanzitutto quali sono diciamo così i vantaggi quindi noi troveremo in questo file i quattro marcatori dei prospetti due marcatori per le sezioni già impostate e quattro linee che individuano un ipotetico lotto nelle varie schede qui a sinistra nella scheda dei layout troviamo le tavole impostate in particolare troviamo un master che è il modello di tavola e tre tavole già pronte apriamo un attimo il master e vediamo che questo master è un formato a1 e ha diciamo il cartiglio già impostato questo cartiglio è stato pensato per essere compilato in automatico senza nessun nostro intervento utilizzando i campi automatici allora quali sono questi campi automatici sono il cognome e nome dello studente o nome e cognome che è la stessa cosa il nome del progetto questi dati li inseriremo noi una volta per tutti all'inizio e vediamo come il quindi il nome del progetto gli elaborati che verranno contenuti nei layout e questi verranno inseriti in automatico da archicad tenendo conto dei disegni che andremo ad inserire stesso discorso per la scala la data anche questa sarà inserita in automatico in base al giorno in cui stiamo elaborando il nostro progetto il numero della tavola che viene preso dall'indicazione dei layout quindi questo numero uno che sta davanti a tavolo uno sarà quello che andrà inserito qui infatti se noi adesso andiamo a vedere le tre tavole predisposte per dire tavola uno è una tavola già predisposta per avere la pianta del piano terra i quattro prospetti e una vista planimetrica in scala 1 a 500 vedete punto dicevo nel caso in cui il nostro edificio più o meno a questo ingombro troviamo già tutto pronto per essere impaginato e vediamo che alcuni dati qui già sono inseriti in particolare è stato inserito gli elaborati quindi piano terra per i vari prospetti e la planimetria che sono gli elaborati reali che noi abbiamo messo la scala ugualmente 100 500 perché la planimetria 500 la data come abbiamo visto e tavola uno che è questo numero qui se andiamo sulla tavola 2 troviamo un discorso analogo chiaramente qui la scala sarà solo 100 perché non c'è planimetria troviamo le due sezioni ipotetico piano primo e una vista 3d e il numero della tavola che sarà tavola 2 la tavola 3 in realtà è una tavola vuota predisposta per inserire quello che noi vogliamo adesso vediamo come inserire le informazioni mancanti che sono il cognome nome dello studente e il nome del progetto per inserire bisogna andare sul menu archivio info info progetto tra i vari campi questi sono tutti i campi che possono essere inseriti poi automaticamente a noi interessa il nome progetto il cognome nome dello studente facciamo un esempio qui possiamo scrivere che ne so auditorium cognome nome bianchi paolo nome a caso cliccando su ok vedete ecco qui si è aggiornata in automatico la nostra il nostro cartiglio quindi progetto auditorium cognome nome bianchi paolo questo automaticamente su tutte le tavole ecco quindi benissimo quindi questo diciamo ci facilita notevolmente il compito vediamo anche come inserire nuovi nuovi elaborati adesso questo template a per default una pianta generica del piano terra in cui ci sono tutti gli elementi disegnati i prospetti e le sezioni nella scheda viste qui troveremo però oltre alle piante standard che già inserita anche altre due possibilità da utilizzare uno con le piante quotate e uno con le piante arredate questo che cosa significa che utilizzando i lucidi in particolare le combinazioni di lucidi e nelle piante quotate non verranno inseriti le arredi nelle piante arredate non verranno inseriti le quote facciamo un esempio qui proviamo a mettere una quota andiamo sul documento posizioniamo c'è il piano terra ecco siamo già il piano terra prendiamo una quota e mettiamo che ne so una quota che fa da questo punto a questo punto la mettiamo qui in automatico va bene possiamo fare un'altra quota da questo punto a questo punto e la mettiamo in questo punto qui chiaro adesso che abbiamo molto spazio il problema non si può non si vorrebbe però nel caso in cui noi abbiamo che ne sono un appartamento quindi delle delle stanze tutto sommato anche abbastanza piccole in cui dobbiamo mettere sia quote che arredi rischiamo che i due elementi si sovrappongono e diciamo non c'è un risultato ottimale quando noi andiamo a mettere le quote se ci avete fatto caso vengono in automatico messe su un lucido che si chiama quotatura generale si vado a mettere gli arredi adesso proviamo a mettere un arredo a caso strumento oggetto andiamo a scegliere un arredo qualsiasi che ne so mettiamo questo tavolo ok andiamo a posizionare vedete questo tavolo sta nel layer nel lucido interni arredo le due viste qui sono state pensate proprio per escludere i lucidi che non vogliamo non vogliamo rappresentare per cui se andiamo qui sul piano terra troveremo tutte e due se andiamo sul piano terra delle piante vuotate vedete non troveremo l'arredo che abbiamo messo se andiamo sul piano terra delle piante arredrate il contrario vedremo l'arredo ma non vedremo le quote quindi nel caso in cui a noi se servirà di poter inserire delle piante e questo dipende chiaramente dal tipo di progetto e con alcuni elementi piuttosto che altri possiamo utilizzare queste viste utilizzarle semplicissimo per esempio andiamo sulla famosa tavola 3 che vuota questa tavola qui andiamo sul sulle viste prendiamo che ne so la vista del piano terra delle piante vuotate la trasciniamo eccola qua vedete qui ci sono le quote ma non c'è la ma non c'è l'arredo poi ritorniamo qui prendiamo la pianta arredata del piano terra la mettiamo qui è il contrario avremo l'arredo ma non avremo le quote quindi anche questo tempo questo templetta pure questa possibilità da utilizzare perché questa non è inserita in automatico sarete voi a secondo dell'esigenza si serve utilizzerete se non ho per cui potete inserire questo stessa cosa la possiamo fare con le viste nel senso che noi stiamo nel nostro 3d scegliamo una vista che a noi interessa adesso posso ecco qua c'è una vista dall'alto quello che voglio una vista interna quello che a me piace una volta che questa vista a me interessa posso nell'opzione viste andarla a memorizzare salva vista corrente gli diamo un nome personale per il per dividerla possiamo chiamarla che ne so vista esterna crea e vedete viene aggiunta questa vista esterna allora come tutte le viste poi nel caso di modifica verrà aggiornato automaticamente allora noi nel nostro progetto possiamo salvare più viste che verranno poi automaticamente aggiornate viste interne viste e poi inserirle nel nostro progetto come anche qui andremo nella famosa tavola 3 ritorniamo nelle viste prendiamo una vista esterna e la trasciniamo in questo caso abbiamo inserito pure ulteriori viste ricordo che nel caso in cui vogliamo inserire dei render questi invece devono essere salvati come immagini e quindi la procedura è un pochino differente in questo modo possiamo completare la nostra opera vediamo adesso una volta finito come pubblicarlo come creare file pdf andiamo sul quarto pulsante sette di pubblicazione ok sette di pubblicazione qui occhio che sia selezionato elaborati da consegnare perché ci sono anche altri sette che sono quelli standard di archica elaborati da consegnare qui troverete le tre tavole ma nel caso in cui ne avete fatte altre e ci sarà un altro video che vi spiega come fare queste verranno aggiunte automaticamente qui a questo punto noi dobbiamo soltanto pubblicarle automaticamente verrà creato il file pdf da consegnare per pubblicarle bisogna cliccare sul pulsante pubblica la prima volta che lo facciamo dobbiamo inserire alcuni parametri quindi cliccare sul proprietà sette di pubblicazione questi parametri essenzialmente sono principalmente dove andare a pubblicare il nostro file sfoglia file sistemi locali che consiglio di pubblicarlo nella scrivania nel desktop scegli dopo di ecco importante qui potremmo anche trovarci in una situazione già pronta all'uso ma nel mio caso non lo è vediamo come fare allora prima cosa qui possiamo scegliere se creare un file singolo o una struttura reale della cartella cioè significa che ci verrà creata una cartella che si chiamerà tavole o all'interno tavola 1 tavola 2 tavola 3 oppure possiamo anche creare un file singolo io consiglio di creare un file singolo cosa importante questo è il nome del file non è in questo non è importante la destinazione l'abbiamo diciamo così scelta prima o importantissima il formato perché non è detto che troviate il formato pdf cioè nel caso in cui troviate l'iper modello b mix dobbiamo andare a selezionare pdf quindi importante che ci sia la destinazione il desktop un file singolo e il formato pdf questo punto clicchiamo su ok dopodiché quindi abbiamo impostato diciamo così le proprietà della nostra pubblicazione a questo punto clicchiamo nuovamente sul tasto pubblica e vedete automaticamente archicad sta creando le tavole quindi nel segno di spunto verde significa che è stato creato senza errori quindi lo possiamo chiudere io adesso nel mio caso vado nel desktop eccolo qua e trova un file pdf che è questo qui dove troverò appunto la tavola 1 la tavola 2 con tutta l'impostazione le scritte messe bene e data e quant'altro e la tavola 3 dove abbiamo messo appunto la tavola una con le quote una con gli arredi e la nuova vista tridimensionale ecco questo è un pochino il funzionamento principale di questo di questo template